Il fascismo sicuramente lo guardiamo con interesse. Il fascismo sicuramente lo guardiamo con interesse. Se ci toglie le risorse, se ci toglie la vivibilità, siano le persone che stanno peggio di noi e che scappano da una guerra e vengono a cercare un futuro migliore. Uno dei vostri slogan c'è per ogni immigratore. Il fascismo sistemato c'è a casa un italiano disoccupato. Allora, Casa Fondo da dieci anni ha sempre la stessa posizione e merito. L'immigrazione è una risorsa per chi la sputta. Siamo tutti i antifascisti! Il fascismo sicuramente lo guardiamo con interesse. Se qualcuno ci dice che siamo fascisti non lo prendiamo come un'office. Ci hanno definito fascisti del terzo millennio. Simone Di Stefano in televisione ha detto che è fascista, assolutamente sì. Ma oggi cosa volete sapere da noi? Noi siamo in piazza ogni volta che questi provano a mettere la testa fuori dal sacco. Perché in questa città, che è antirazzista, antifascista e medaglia d'ora alla resistenza, i fascisti non hanno mai avuto spazio e mai riusciranno a stare tranquilli in una piazza. Se uno vi chiama fascisti del terzo millennio, fascisti... sì, sicuramente. L'abbiamo mai negato? No, una domanda. L'abbiamo mai negato? No. Oggi è utile concedere o autorizzare un presidio dallo sfondo razzista in un periodo difficile come questo. L'abbiamo negato, prostituzione e questa è la vostra indegrazione. Buoni fascisti, la libertà!